passiamo alla parola del signore dall'evangelo di marco al capitolo 15 leggeremo solo un verso il verso ventuno marco capitolo 15 il verso ventuno così è scritto in marco capitolo 15 al verso ventuno costrinsero a portare la sua croce a un certo simone un cireneo padre di alessandro e di rufo il quale passava di là tornando dai campi fin qui la lettura della parola del signore è il momento della crocifissione del signore gesù dopo il processo farsa e l'umiliazione la flagellazione gli scherni ora gesù si dirige verso il golgota e la debolezza il flagello il dolore lo portano a non riuscire fisicamente a sostenere il peso della croce ora la croce probabilmente qui è rappresentata da da un tronco traverso che poi sarebbe stato affisso al palo dove gesù fu crocifisso ma la condizione del suo fisico era tale da non riuscire a portarla e questo costrinsero era qualcosa che nella nell'impero romano veniva praticato cioè costringevano i soldati a portare i pesi ed era un obbligo di legge per un certo tratto coloro che incontravano e che facevano parte del popolo a loro sottomesso anche gesù parlerà di questa pratica nel sermone sul monte quando dirà se uno ti costringe a camminare con lui un miglio tu fanne due e c'è in questo in questo momento qualche cosa di molto particolare di molto intenso quest'uomo simone che proveniva dal nord dell'africa mentre ritorna dai campi si vede obbligato a compiere qualcosa è qualcosa di straordinario quello che gli succede ora capite che la sua volontà in questo non c'entra perché lo costrinsero a farlo non fu una sua scelta non fu un atto di misericordia non fu qualcosa di preventivato qualcosa che egli fece volontariamente ma viene descritta qui proprio qualcosa di casuale mentre egli rientrava lo videro e gli dissero porta tu la croce e e simone simone si ritrovò quindi in ad essere parte dell'evento più straordinario della storia dell'umanità qualcosa che non coinvolgeva solo gli uomini ma in qualcosa che coinvolgeva dio stesso incarnato ed egli incrociò certo non casualmente poi lo vedremo la via di cristo e questo segnò qualcosa di straordinario per la vita di quest'uomo verrà detto appunto da marco che egli è il padre di alessandro e di rufo rufo comparirà poi tra i nomi della lettera ai romani e quindi nella famiglia di simone entrò cristo entrò la salvezza entrò la presenza di dio ma quello che è straordinario è che in ogni angolo in ogni sfaccettatura dell'opera di cristo tutto ciò che egli compì tutto ciò che avvenne scusate intorno al all'opera di cristo aveva sempre l'obiettivo di portare gli uomini alla conoscenza alla salvezza alla redenzione e quest'uomo si ritrova quindi ad incrociare questo uomo non sappiamo quello che simone sapesse di lui al tempo ma sta di fatto che seguì il signore lungo tutto il tragitto sentì probabilmente le donne il grande seguito e le donne che piangevano al seguito di gesù ascoltò le frasi che gesù indirizzò a loro o quello che avvenne alla alla croce e questo segnò qualcosa di straordinario per la vita di simone ma quello che voglio sottolineare a noi a me e a voi è che questo che avvenne a simone è quello che gesù ordina a ciascuno di noi ora quest'uomo fu costretto noi invece dobbiamo essere come dirà paolo costretti dall'amore a fare lo stesso quest'uomo portò la croce invece di cristo noi siamo chiamati a portare la croce della croce dell'obbedienza e di tenere stretta a noi questa ricchezza infinita che per noi rappresenta la croce di cristo questo tema voi lo sapete io ve lo propongo spesso oggi spero di riuscire a proporvelo in un modo da far comprendere di più a me stesso e a voi quanto prendere la croce essere credenti a prendere la croce voglia dire vivere per la croce vivere per colui che è stato affisso sulla croce o affisso sulla croce quanto significhi per noi vivere alla luce di questo aspetto ogni cosa della nostra esistenza simone scusate simone condusse il portò la croce sulle spalle fino al luogo del golgota e quello che il signore chiede a chiunque lo segue e di fare lo stesso ci sono degli aspetti straordinari di similitudine tra il comandamento che gesù dà a noi chiunque voglia seguirmi rinunci a se stesso prenda la sua croce mi segua e quello che venne qui lo costrinsero egli aveva un obiettivo ma dovette rinunciarci perché dovette farsi carico di un altro impegno che non era da lui pianificato non era nei suoi pensieri dovette rinunciare ai suoi obiettivi in quel giorno per fare qualcos'altro e questo qualcos'altro era prendere la croce di cristo noi siamo chiamati alla luce di ciò che cristo ha fatto per noi a rinunciare alla nostra vita a rinunciare medito spesso a quanto sia difficile un periodo particolare della vita di ogni uomo e donna il periodo dell'adolescenza è il periodo più travagliato il periodo più difficile in cui il cuore del ragazzo che comincia a crescere ha un desiderio che è più forte di tutte le altre cose fare ciò che vuole e la ribellione si fa forte e il braccio di ferro è intenso perché perché ci si aggrappa al proprio desiderio al proprio cuore alla propria volontà come l'unico modo di vivere la propria esistenza ed è proprio con questo pensiero che la maggior parte degli adolescenti naufragono in esperienze disastrose ma questo vale anche per coloro che hanno superato quest'età quando l'adolescenza nella sua essenza continua a vivere nella mente io voglio fare ciò che voglio ma se tu hai conosciuto cristo la prima offerta che poniamo ai suoi piedi è proprio la nostra volontà l'esempio di cristo che nell'essenza è portare la sua croce seguire il suo esempio fu proprio quello di offrire al padre una vita totalmente arresa alla sua volontà di più egli è venuto per fare la sua volontà era l'unico scopo per cui si è incarnato non più quindi padrone di se stesso ma servo perfetto di cristo di dio padre e allora ascoltate c'è qualche cosa che ci insegna questa questa vicenda e che vorrei che fosse chiara per colui che ha conosciuto cristo cristo non riguarda alcuni aspetti della propria vita sebbene importanti ma cristo diviene la vita io sono la via la verità e la vita per me come dirà l'apostolo il vivere è cristo il fatto che egli abbia conosciuto la salvezza di cristo fa sì che l'unico tesoro che riempie il suo cuore non è più il suo volere i suoi desideri la propria volontà ma è cristo e egli dirà l'apostolo paolo a crocifisso se stesso per far vivere cristo e ogni scelta ogni direzione che lui prenderà ogni volontà che è nel suo cuore è sempre quella di vivere per cristo e per adempiere il suo volere la vita stessa la sua incolumità fisica biologica non non è più un valore che possa essere posto al di sopra di cristo e gli dirà io sono pronto a morire a gerusalemme per il nome del signore perché la vita non mi è cara quanto piuttosto mi è caro il compiere il suo volere e allora qui c'è qualcosa che ci mostra il cristianesimo nella sua forma vera in cui cristo è tutto nella mente nel cuore nell'anima e il comandamento di cristo è proprio questo come vuoi amare dio non puoi farlo come vuoi tu non puoi farlo nella misura che tu stabilisci v'è un solo modo per amare cristo con tutta la mente con tutta l'anima con tutto il cuore con tutte le forze ma del resto vedete solo chi non l'ha conosciuto cristo può pensare di poterlo amare in percentuale o a misura ma chi lo conosce chi ha conosciuto la sua santità sebbene nella misura che può la propria mente o il cuore contenere chi ha conosciuto la forza infinita di questo amore di cui in realtà conosciamo molto poco chi ha conosciuto la grazia la misericordia che è in lui e il fatto che egli è l'unica via che conduca al cielo e che l'unica speranza della vita eterna è legata all'atto più grande di misericordia che la storia dell'umanità abbia visto cristo crocifisso il fatto che solo in lui ci siano parole di vita eterna il fatto che egli ha posto dinanzi ai nostri occhi la gloria del cielo non può spingerci ipocritamente a cercare solo la salvezza intesa come lo scampare all'inferno e andare in cielo ma poiché egli ci ha dato il cielo e ci ha liberato dall'inferno ogni mio giorno ogni mio sentimento ogni mia passione appartengono a lui la mia mente deve essere ripiena di lui quando parlo con la gente quando compio le mie scelte quando mi sveglio la mattina quando faccio fronte a decisioni importanti lui deve essere il centro lui deve essere il tutto della mia esistenza a lui devo piegare il mio cuore in altre parole vedete quella croce che Simone portò sulle spalle Gesù vuole che sia sempre sulle nostre spalle io non vivo più per me stesso la croce che porto la porto per crocifiggere me stesso al fine di vivere solo per te vedete il Signore ci insegna che la vera abbondanza di vita sta in questo e vedete io lo so che la vita è difficile è veramente difficile lo so che ci si incontrano tante difficoltà ma queste non devono essere in contrasto con la nostra vita di fede ma il nostro lavoro le nostre malattie i nostri impegni ogni prova che incontriamo sul cammino deve essere vissuta con Cristo e perché la gloria di Cristo riesco a spiegarmi tutto deve essere così tutto e come cambiano le cose quando è così è vero o no? come cambiano le cose quando tu vivi ogni cosa per la gloria di Dio e vedete Simone Simone poi dovette fare le sue esperienze divenne padre di due credenti citati che erano noti al tempo di Marco quando Marco scrisse il suo evangelo e io vorrei fratelli che tutti quanti noi investissimo il tempo che Dio ci concede per la sua gloria è per adempiere il suo volere nella nostra vita e nel mondo intorno a noi vorrei che comprendessimo che l'essere cristiani non vuol dire avere una marcia in più un aiuto un sostegno per compiere ciò che vogliamo ma significa aver perso la nostra vita e acquistata la vita eterna che Cristo ci ha donato e in quella vita eterna chi la possiede non vive più per se stesso ma per colui che ha acquistato la nostra vita e quindi i fratelli le sorelle dovrebbero con entusiasmo vivere i rapporti reciproci con il desiderio di glorificare e compiacere Dio dovrebbero avere nel cuore ogni qual volta compiono o dicono una parola il desiderio di onorare Dio e di manifestare Cristo e l'opera che Cristo ha compiuto dovremmo essere ripieni di quella vitalità di quella vita di Cristo tanto da poterla esprimere sempre per dare gloria a Lui e solo e soltanto a Lui quando leggiamo della vita di Paolo noi troviamo un uomo che sulla via di Damasco perse la sua vita e ne cominciò a vivere un'altra ed era una vita veramente esuberante al punto che poteva affrontare la morte della prigionia con una tale pace nel cuore anche nel dolore da poter dire io so che anche qui con la vita o con la morte Cristo sarà glorificato nel mio corpo capite qual era l'essenza della vita di Paolo sono in una prigione ma so che il volere di Dio è con me sono nella sofferenza ma io gioisco perché so che Dio compirà qualcosa e se vivrò egli glorificherà il suo nome nel mio corpo se morirò egli glorificherà il suo nome con la mia morte ma ciò che io voglio è che in tutto quello che mi accadrà in suo nome sia glorificato questa è la vita esuberante questo è il trionfo questa è la consacrazione questa è l'offerta vivente posta sull'altare che si innalza verso Dio e questa voglia essere la nostra vita perché vedete un tempo appartenevamo a questo mondo e non avevamo speranza alcuna vivevamo per i deboli elementi di questa vita poi il Signore ci ha chiamato dalla morte che noi chiamavamo vita alla vera vita ci ha trasportato dalle tenebre al suo glorioso regno ci ha chiamato figli ci ha mostrato quali sono i valori della vera vita la santità la purezza l'amore e noi non viviamo più catturati dai deboli elementi da cui il Signore ci ha svincolato con la sua morte noi oggi viviamo con il cuore nel cielo con lo sguardo su Cristo e con un appassionato desiderio di essere ogni giorno più simili a Lui perché fra poco noi ce ne vogliamo via e quello che vogliamo portare su quando ce ne vogliamo via è l'immagine di Cristo l'unica cosa che avrà valore il giorno in cui io e te lo vedremo faccia a faccia oh fratelli quanto è preziosa quella croce quanto è preziosa per noi e voglia il Signore farcela afferrare ogni giorno e vivere nell'obbedienza vivere seguendo l'esempio di Cristo vivere per Cristo affinché il nostro cuore possa scoprire l'esuberanza di vita che c'è quando il cuore ama Dio con tutto se stesso quando la mente è ripiena del pensiero di Dio in ogni istante e quando l'anima nostra appartiene solo e solamente a Lui voglia Dio fare di noi di tali servitori allora sì che io e te saremo testimoni della vera vita chiniamo il capo in preghiera l'anima nostra